Cozzi, la sua è un'interpellanza di natura politica nei confronti del sindaco, tra l'altro non gli è piaciuta neanche la risposta del sindaco, l'ha definita un quarto d'ora, dieci minuti, praticamente di nulla nella sua risposta. Sì, quando capita una cosa del genere, un azzeramento a un anno e mezzo, è normalissimo che in consiglio si vada a chiedere un chiarimento relativamente anche a tante cose, tante voci, le ripercussioni che hanno avuto su tutta la maggioranza, il sindaco a domande precise, specifiche, ha risposto come ha fatto adesso nelle ultime tre settimane con il nulla, nel senso non ha parlato di programma, si è partiti che doveva essere tutto collegato a una nuova programmazione, ha un ampliamento, ha un programma migliorativo, più grande, più forte, importante, questi sono stati gli aggettivi che ha sempre usato, alla domanda qual è il programma, non ha detto una parola sul programma, quindi il programma non c'è, addirittura oggi apprendiamo, che non come in un'intervista quando ha annunciato la nuova compagine di giunta, diceva a breve darò il programma, addirittura adesso che c'è bisogno, oltre ad un conclave, che ci sarà addirittura una conferenza programmatica, e quindi siamo veramente ormai non alla barzelletta, siamo ormai al ridicolo e quindi insomma io credo che non ci siano da aggiungere altre parole, io mi attengo a quelle che sono state le dichiarazioni, mi attengo a quelle che sono stati fatti, oggi ho chiesto contezza di ciò e ulteriormente, ancora oggi, in consiglio comunale, non sugli organi di stampa, non attraverso voto e risposta di interviste, il sindaco ha risposto con dieci minuti di nulla.